eccomi tornato ragazzi ciao a tutti come va? come state? nuova live, nuova serata insieme per parlare di un'altra tematica che non aveva vinto nei vari sondaggi che ho proposto l'anno scorso, no l'anno scorso, in primavera quindi ho deciso di proporla io, il tema è quello dell'apatia, della motivazione, del capire come è possibile che alcune persone siano incredibilmente proattive in grado di stimolarsi, di autostimolarsi e di essere stimolate e invece altre persone hanno tutta una serie di caratteristiche temperamentali che le portano a essere passive o in generale entrano in un vortice della vita in cui si fa fatica a trovare degli stimoli degli stimoli e appunto l'apatia, l'apatia questo termine molto usato a volte impropriamente significa proprio assenza di stimoli, assenza di desiderio, assenza di motivazione prima di iniziare con la live concedetemi come al solito facciamo un attimo di informazioni di servizio uno spazio dedicato alle informazioni di servizio prima cosa che volevo dirvi è nei prossimi giorni, forse già domani se riesco a montare il video dopo la live so a tempo prima di addormentarmi dovrebbe uscire una nuova puntata di Storie di Kikomori e il protagonista, ve lo anticipo, è un ragazzo di Venezia di nome Mirko che è il più giovane ragazzo che è venuto qua a raccontarsi sul mio divano perché ha 19 anni però paradossalmente è uno dei casi che... casi, diciamo, storie casi un po' brutto è una delle storie più... più positive nel senso che lui è riuscito a uscirne e è riuscito a trovare nuovi stimoli per affrontare quelle che erano le sue paure e io penso che quella live... quell'intervista racchiuda un po' anche dei temi che andremo a trattare oggi ovvero capire come una persona possa passare da una condizione di forte apatia di disinteresse nei confronti della vita, dell'esistenza, degli obiettivi sociali ad avere invece una forte motivazione ciao Benedetta, grazie per il fatto che supporti il canale volevo dire, prima di questo volevo dedicare, rubare 10 minuti alla live per fare un... per rispondere a un paio di critiche che ormai noto che... il volume basso non lo so perché forse è un microfono dovrò cambiare, dovrò prendere un microfono più bello forse è un problema di microfono no, stavo dicendo che sto notando che stanno arrivando in particolare due critiche una più banale, secondo me abbastanza ridicola ovvero che non parlo di Kikomori sul mio canale ma parlo anche di altri temi per esempio ultimamente sto parlando tanto di Incel e la critica banale è quella ma scusa ma se il tuo canale si chiama Kikomori Italia perché non parli di Kikomori? l'ho già detto mille volte non rubo troppo tempo io sul mio canale parlo sostanzialmente di quello che mi pare senza essere arrogante però ognuno si crea i suoi spazi per me Kikomori Italia è un modo per per parlare delle tematiche che mi stanno a cuore delle tematiche che mi interessano non ho mai avuto l'ambizione fin dall'inizio di parlare solo e soltanto di Kikomori perché diventa secondo me anche pesante per le persone che mi seguono e in parte io penso di parlare più o meno sempre di Kikomori perché tutti i temi che che tratto hanno un filo conduttore l'altra critica invece questa è diciamo quella più spicciola che però continuo a vedere sono sicuro che vedrò da qui alla fine dei miei giorni l'altra critica che vedo è ma scusami Marco ma se tu hai tutti questi problemi l'ipocondria la depressione l'ansia eccetera 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 ma perché sei qua a dispensare consigli come se tu fossi che ne so Dio in terra e invece hai tutti i problemi del mondo allora innanzitutto io non sono qua per dispensare consigli queste live vorrei dirlo a tutti quelli che mi seguono ma immagino che molti l'avranno già capito non sono dei raduni per ascoltare me che do delle pillole di saggezza sulla vita assolutamente non è una cosa che voglio fare è una cosa che che quando vedo qualcuno fare mi dà veramente tanto tanto fastidio queste live servono per avere degli spazi di confronto aperti a tutti coloro che vogliono partecipare i Kikomori non i Kikomori persone con problematiche sociali persone senza problematiche sociali per parlare di temi che non è facile magari parlare nella nella vita di tutti i giorni ed è un modo anche per interagire quindi non non è nemmeno un io che dico a voi ma è anche voi che dite a me e spesso i vostri commenti sono sono assolutamente pertinenti e assolutamente centrati col tema no a volte no però mi doterò dei di moderatori c'è già qualcuno che mi ha offerto il suo aiuto e quindi anche questa volta c'è qualcuno che spamma in chat verrà brutalmente bannato però ecco una cosa importante secondo me è io non ho mai avuto l'ambizione a prendere il mio canale di voler essere colui che dice come vivere o che sa come vivere inoltre penso che aver vissuto determinate problematiche mi aiuti meglio a immedesimarmi nella condizione di cui parlo questo non significa che per forza di cose ci entrerò a tutti i punti ma sicuramente mi aiuta a capire qualcosa di più perché l'ho vissuto e sicuramente è la motivazione che regge il mio canale perché se io trovo anche stimoli nel poter aiutare dei ragazzi che hanno queste problematiche non è solo questa la motivazione quindi non voglio nemmeno ergermi a santo però tra i miei stimoli c'è anche quello di voler provare a aiutare e anche perché io riesco a empatizzare con maggiore facilità rispetto a delle persone con cui io mi identifico con più facilità perché appunto come ho raccontato spesso insomma ho un profilo che può essere il condotto di Kikomori anche se non sono mai stato isolato per lunghi periodi ma ho avuto tante caratteristiche che affronto nei miei video e non ho problemi a parlarne in gran parte perché sono riuscito a superarle in parte perché nella mia vita ho perso tanti dei tabù che avevo e della paura di espormi quindi oggi sono molto più tranquillo su questo quindi questa era la premessa la premessa che mi sentivo in dovere di fare perché perché mi sembra davvero ridicolo che qualcuno pensi che che le persone che possono dare consiglio in generale le persone che possono trattare determinati temi sono solo quelle che o non le hanno mai avute o non le hanno o hanno determinati titoli noi siamo qua a parlare di temi tutti insieme per cercare di capirci qualcosa di più e anche su questo tema di oggi io voglio sentire molto la vostra opinione e infatti parto subito con la live entriamo nel vivo del tema e provo già a leggere i primi commenti che mi avete mandato grazie intanto per il supporto a tutti che mi scrivono belle cose l'apprezzo apprezzo anche le critiche per carità nell'ultimo video sugli incel ne sono arrivate tantissime l'importante è che siano critiche nel merito cioè di quello che dico che siano con toni moderati non sei d'accordo con una cosa che ho detto scrivimelo argomentamelo perfetto se la tua critica è ma cosa parli di incel che il tuo canale si chiama Kikomoritalia è una critica che è veramente indescrivibile nella sua vuotezza io veramente potrei chiamarlo l'ho fatto come provocazione in alcuni commenti io potrei chiamare il mio canale la storia dello spazio e poi parlare di dinosauri o parlare di telefonini posso fare quel che voglio non c'è una legge che mi impedisce di trattare i temi che io desidero è il mio canale posso per fortuna mi è data questa possibilità ciao a tutti insomma noto che tutti i tuoi video è il volume basso che sono già letto no c'è un commento sulla patia prima la patia è qualcosa di veramente invalidante in alcuni casi buonasera allora siccome l'altra volta mi avete chiesto di partire da una mia problematica nel senso da una mia storia relegata a questa 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 tematica e la premessa voleva anche cercare di dissuadere eventuali critiche successive io ho sofferto tantissimo di apatia oggi sono una persona completamente opposta e anzi credo di avere quasi il problema opposto ovvero una iperattività una incapacità di stare fermo che è un problema anche questo assolutamente però diciamo la maggior parte del problematica che riguarda il Kiko muore è piuttosto dovuta alla scarsa motivazione alla scarsa voglia di di cimentarsi in attività proattive proattive vuol dire che lo stimolo viene dall'interno che non c'è bisogno di uno stimolo esterno ma è una motivazione intrinseca è anche una capacità di smuovere le cose di agire in autonomia quindi l'apatia è diciamo la proattività è forse una delle caratteristiche più opposte dell'apatia e non a caso la proattività è una delle caratteristiche più amate più apprezzate in ambito laborativo perché il lavoro è uno di quegli ambiti in cui essere costantemente stimolati e non essere in grado di agire in modo autonomo di essere in grado di produrre dei risultati senza bisogno che qualcuno costantemente ti dia uno stimolo esterno è ovviamente una caratteristica apprezzatissima di motivazione ho parlato anche nel mio video credo sia un argomento centrale perché 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 uno dice puoi dare tutti i consigli del mondo tutti gli input del mondo tutti le 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 buone prassi del mondo ma se io poi non ho la motivazione alla base per attivarmi a mettere in pratica questi consigli queste azioni queste buone abitudini come faccio cioè la diciamo tutto muore alla base tutto muore alla alla fonte non c'è nessuna motivazione che mi spinge quindi non so bene come bypassare questo problema che può essere considerato un problema alla radice l'apatia forse è il problema alla radice degli Ikikomori perché la stessa reazione che verrebbe richiesta agli Ikikomori viene soffocata in partenza da questa mancanza di motivazione e appunto come oggi cerchiamo di rispondere a questa domanda come si può cercare di sbloccare questa situazione di apatia come si può riuscire a innescarsi una motivazione che spontaneamente non si avrebbe perché la motivazione per forza di cose è una cosa spontanea se io ho la motivazione a guardarmi un film un telefilm ho qualcosa che mi porta a prendere il telecomando accendere la tv guardarlo oppure se io ho la motivazione a studiare ho qualcosa che mi porta a farlo tutte le nostre azioni dalla più piccola alla più grande dalla micro azione alla macro è sorretta per forza di cose da un certo tipo di motivazione la motivazione le fonti di motivazione possono essere tante può esserci una motivazione intrinseca cioè qualcosa che io faccio perché io ritengo che sia utile per me quindi qualcosa che vedo come positiva come gratificante come qualcosa che mi dà un ritorno e quindi una motivazione appunto che viene da dentro e questa per esempio è una motivazione che di solito sorregge le passioni cioè le cose che facciamo senza nemmeno quasi accorgercene perché ci viene voglia di farle le dipendenze per esempio anche la dipendenza è una motivazione se vogliamo vederla intrinseca ovvero qualcosa che poi viene determinata dalla nostra volontà anche se poi nella dipendenza ci sono dei meccanismi psicologici che portano alla ritualità e quindi a volte facciamo delle cose per cui siamo dipendenti senza nemmeno una grande voglia alla base però esiste anche una motivazione estrinseca cioè una motivazione che non dipende strettamente da quello che noi vogliamo fare per esempio questa è la motivazione secondo me alla base di tantissime nostre azioni che nemmeno ce ne accorgiamo e in generale alla base di gran parte della nostra società e la motivazione estrinseca per eccellenza è la paura la paura è una fonte di motivazione fortissima per esempio se io ho fatto questo esempio nel mio libro questo l'ho scritto anche in un articolo ma credo sia un esempio molto calzante per far capire cosa si intende per motivazione mettiamo che qualcuno mi minacci io esco da un bar qualcuno mi si avvicina e con un coltello mi minaccia e mi chiede di dargli il portafoglio in quel momento io sono incredibilmente motivato a dargli il portafoglio ma non è che ho voglia di dargli il portafoglio cioè se fosse per me io non ho una motivazione intrinseca qualcosa che mi spinge da dentro a volergli dare il portafoglio perché lo voglio aiutare per esempio come se dessi la carità o se volessi aiutare con un acquisto la mia motivazione in quel caso è strinseca cioè è la paura è una fonte esterna la paura di essere ferito la paura del dolore banalmente la paura della minaccia quindi capite che ci sono due grandi fonti di motivazione almeno due grandi fonti di motivazione una che dipende dal nostro ritorno cioè qualcosa che facciamo perché vogliamo guadagnare qualcosa che sia una sensazione che sia un bene che sia in generale un piacere donico un'altra motivazione è qualcosa che noi facciamo per evitare una conseguenza negativa per esempio la paura di essere ferito ma più banalmente la paura di fallire io mi rendo conto spesso che tante delle mie azioni o tante delle mie azioni presenti e passate erano magari dettate dalla paura di essere considerato un fallito la paura di sentirmi un fallito quindi nel caso magari la paura di sentirmi un fallito è una motivazione ovviamente più intrinseca la paura di essere giudicato dagli altri un fallito a prescindere da come io mi giudichi che poi sappiamo che la linea è sottile perché il giudizio degli altri influisce anche sul nostro giudizio è una qualcosa che io non faccio per la voglia il desiderio perché credo in quell'azione che faccio ma è un qualcosa che io faccio per soddisfare gli altri in generale per scappare sfuggire lenire una paura una motivazione appunto esterna quindi diciamo che il tema della motivazione ha questi due grandi poli questi due grandi poli che vanno analizzati entrambi e spesso agli kikomori a differenza di altre persone che vivono la loro condizione di difficoltà nelle relazioni nel diciamo nel superare eventi traumatici perché per esempio anch'io ho subito bullismo ho avuto difficoltà relazionali fortissime oppure senza tirare in ballo a me ma cosa differenzia una persona che pur subendo bullismo essendo in una situazione difficile va avanti e riesce magari di superare la scuola e proseguire gli studi e costruirsi una carriera da una persona che avendo le stesse condizioni temperamentali di partenza non riesce fallisce in questa cosa e decide di isolarsi fondamentalmente ovviamente i fattori sono tanti ma fondamentalmente è la perdita di motivazione estrinseca che la la vita diciamo che la motivazione che questa persona prova nella paura di fallire io con questo non significa che i comori non abbiano paure di fallire significa semplicemente che probabilmente la paura di fallire o la paura di essere giudicato fallito la paura di finire in una condizione diciamo di isolamento di inibizione di autocostrizione diventa superiore alla cioè non è più abbastanza forte scusate non è più abbastanza forte da supportare la la l'opposizione il contrasto a questo tipo di paura perché se da una parte abbiamo la paura di fallire che ci spinge magari ad andare a scuola anche se non abbiamo voglia che ci spinge ad andare al lavoro anche se non abbiamo voglia se questa paura diventa più debole perché perde di significato perché perde di senso e qua rientra in gioco il tema della crisi esistenziale cioè della perdita di senso a 360 gradi degli obiettivi della vita e per questo che spesso dietro all'ichikomori non c'è solamente paura la paura è una componente dell'ichikomori la paura del giudizio è una componente dell'ichikomori l'altra componente dell'ichikomori è la sgretolazione lo sgretolarsi di questa paura a causa di una base motivazionale di senso sempre più debole quindi la debolezza di questa paura che non è abbastanza forte per spingerci fuori per esempio faccio un altro un altro esempio perché non sono sicuro di essermi spiegato bene e poi vado a leggere i vostri commenti molti si chiedono ma perché l'ichikomori esiste solo nei paesi sviluppati l'ichikomori per esempio non esiste nei paesi in via di sviluppo nei paesi dove a 16 anni o si lavora o non si mangia e probabilmente l'ichikomori con tutta probabilità è una problematica legata al benessere il benessere ovviamente ha un riflesso negativo il riflesso negativo del benessere cioè dell'avere tutto dell'avere quasi tutto è quello di perdere motivazione perdere motivazione estrinseca e intrinseca anche se per certi versi perché perché se io devo mangiare non c'è crisi esistenziale depressione esistenziale ansia di giudizio io ho uno stimolo dentro fortissimo che mi porta a superare queste mie paure a non considerarle nemmeno perché lo stimolo è talmente forte da portarmi a avere la motivazione per andare a recuperare cibo se io ho il cibo per scontato ho la protezione per scontato ho un tetto ho quello che mi serve le motivazioni sono qualcosa che devono diventare sempre più intrinseche cioè che devono diventare sempre più qualcosa che dipende dalla mia volontà di volermi realizzare dalla mia volontà di voler perseguire una carriera lavorativa dalla mia volontà di volermi diplomare eccetera e se tutte queste attività non mi danno piacere anzi mi danno dispiacere mi danno sofferenza l'unico motivo per cui io vado avanti è la paura di essere giudicato per non fare delle attività considerate obbligatorie nella società non diplomarsi è considerato un marchio di infamia incredibile e quindi io sono motivato dalla paura di essere giudicato male dalle altre persone dei miei genitori ad andare avanti e diplomarmi anche se è l'ultima cosa che io farei spontaneamente è alzarmi la mattina andare a scuola andare in classe quando l'ichicomori secondo me arriva a abbandonare la scuola sia quando il livello di sofferenza dovuto alla permanenza in classe all'andare a scuola diventa sempre più alto quindi ovviamente c'è la paura del giudizio la mancanza di soddisfazione dalle relazioni ma conseguenzialmente l'altro fattore che fa scattare il meccanismo di abbandono e quindi di di sottrazione alla vita sociale è il calo di senso il calo di forza dato dalla paura di fallire dalla paura di essere giudicato come una persona reietta come un escluso quindi ci sono queste due forze che a un certo punto arrivano a portare l'ichicomori non solo avere paura ma perdere anche la motivazione per lottare contro questa paura quindi anche viene anche a morire quella che è la causa estrinseca delle sue azioni quindi forse mi sono un po' un po' confuso ma spero di essermi spiegato adesso mi aiuto con i vostri commenti per essere un po' più chiaro così mi mi aiutate anche voi a guidare un po' i miei pensieri io personalmente mi faccio un sacco di paura ai test verifiche esami per paura di fallire magari il fatto di essere primo genito mi abbia fatto essere oggetto di pressione soprattutto dei genitori certo la paura è legata alla scuola è una cosa è una motivazione che ci porta per esempio a studiare il giorno prima dell'esame a fare le ore piccole vedete che la paura diventa fonte di motivazione perché c'è gente che studia solo l'ultimo secondo perché la paura diventa talmente forte che ti alza il livello di motivazione perché perché appunto la motivazione perché io quando ho un pericolo davanti una una macchina che mi sta per investire faccio un salto che non farei mai perché sono pigro e non farei minimo movimento fisico perché in quel momento sono motivato fortemente da un pericolo quindi dal salvarmi la stessa cosa vale per tutto per tutto vale dalla più piccola azione alla più grande c'è sempre qualcosa che guida le nostre azioni dobbiamo capire cos'è ovviamente la paura non è una motivazione sana probabilmente o comunque non possiamo far sì che tutte le nostre motivazioni siano fondate dalla paura e anche per questo è fondamentale trovare sempre di più delle attività che ci gratifichino così spesso dico è fondamentale scegliere un corso di laurea che piaccia e questo può sembrare banale ma capite che tutto il vostro corso di laurea non si può fondare esclusivamente sulla paura di fallire l'esame quindi tutto il vostro studio si fonda solo sul fatto che il giorno dopo avrete un esame quindi dovete studiare perché è una una fonte di motivazione debole di per sé o comunque non abbastanza forte non abbastanza gratificante come per esempio l'unione di queste due fonti di motivazione per esempio anche la motivazione intrinseca se a me piace quello che studio non significa che studierò sempre volentieri non significa che farò tutti gli esami con gioia anzi comunque è difficile avere qualcosa per cui ci piace studiare che non è leggere perché a me piaceva per esempio leggere ma non studiare però ovviamente la fonte di motivazione diventa doppia si sommano queste due fonti di motivazione la paura ovviamente di non passare l'esame diventa una fonte di motivazione anche nel caso in cui io studiassi qualcosa che mi piace ma c'è anche il fattore mi piace quello che studio quindi mi attivo anche con una seconda e rinnovata forza di motivazionale allora allora non è la soluzione lo so che sembra banale bla 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 scusate se parlate tra voi a volte leggo i commenti ma mi perdo l'apatia potrebbe essere una sorta di difesa allora l'apatia potrebbe essere una sorta di difesa difesa non lo so forse in questo caso l'apatia non ci sono tanti meccanismi psicologici di difesa e forse la motivazione parte proprio dalla difesa dalla paura dalla difesa di non volersi vedere come dei falliti però non so se l'apatia ci rifletto ci rifletto andiamo avanti in una discussione magari poi poi riusciamo a rispondere anche questa domanda l'apatia può scaturire anche dopo un pericolo di forza di stress e impegno psicofisico Marco spiega cosa è l'apatia l'apatia l'ho detto all'inizio ho fatto anche una card oggi su instagram è un'assenza di motivazione di stimoli per qualunque cosa un'assenza prolungata ovviamente perché è una perdita secondo me di significato rispetto alle proprie azioni l'apatia però può avere anche delle basi biologiche perché in realtà tutto quello che noi speriamo nell'ambiente il nostro rapporto con l'ambiente ha poi delle ripercussioni biologiche sul nostro fisico e infatti una caratteristica fondamentale dell'apatia è che meno si fa e meno si ha voglia di fare cose io mi ricordo che quando ero a casa per esempio stavo tantissimo tempo sdraiato sdraiato sul divano e ogni volta che mi dovevo alzare dal divano questo mi richiedeva un enorme sforzo ma non solo quando io mi mettevo anche solo al computer a giocare per 20 minuti poi dopo 20 minuti che giocavo mi veniva ancora il bisogno fisiologico di stendermi sul divano questo dimostra proprio che la stanchezza non è solo una somma delle energie che io spendo durante la giornata e che appunto determinano quanto il mio corpo è privo di energie la stanchezza è anche un fatto puramente mentale è un fatto puramente psicologico di abitudine anche è come se il nostro corpo si abituasse alla stanchezza si abituasse all'inattività per questo che le persone più attive tendono a diventare sempre più attive sempre più iperattive anche perché poi il problema per esempio che è dato dai social e dallo smartphone è la velocità che ti richiede questo tipo di azione e ti porta anche per esempio a una velocità di pensiero di azione che è assolutamente sconnessa dalla vita reale infatti c'è una doppia velocità quando uno utilizza i social e quando uno utilizza quando uno è nel mondo reale però esatto quello che volevo dire è che io mi rendo conto come i miei stati d'animo condizionano condizionano il mio linguaggio del corpo come il mio linguaggio del corpo condiziona le mie azioni e come le mie azioni condiziona a sua volta il mio il mio come dire in un ciclo vizioso per cui più mi sento stanco più sarò portato a fare meno cose più sarò portato a fare meno cose più mi sentirò stanco e questo è forse l'elemento più infido dell'apatia ma così come tutte le problematiche psicologiche più complesse la problematica psicologica complessa quella che rende la persona attanagliata ingabbiata all'interno di questa problematica ha sempre una natura ricorsiva cosa significa che ha sempre una natura di autoalimentazione vuol dire che la pratica che genera la problematica diventa essa stessa fonte di attivazione della problematica quindi la problematica stessa diventa fonte di attivazione della della causa cioè è un ciclo vizioso in altre parole tutto si autoalimenta e l'apatia è così come la depressione così come l'ikikomori così come appunto tantissime altre problematiche di origine psicologica ha questo tipo di caratteristica più io mi lascerò abbandonare all'apatia più sentirò il mio corpo stanco più mi sentirò privo di motivazione più mi sentirò in grado di non fare cose ogni cosa che farò mi porterà via una quantità infinita di energia per cui avrò bisogno costantemente di riposarmi infatti questa caratteristica ovvero l'apatia è anche una componente della depressione la depressione ha questa fortissima componente apatica la depressione però si differenzia dall'apatia perché oltre alla componente apatica ha anche una componente di calo del tono dell'umore quindi l'apatia di per sé non ha un tono dell'umore costantemente basso o sbalzi umorali anzi l'apatia tende a generare una stabilità umorale che è essenzialmente piatta un encefalogramma piatto anche a livello di umore per cui non ci sono né stimoli negativi né stimoli positivi la depressione invece ha un'apatia ma associata a un tono dell'umore piuttosto basso che rende tutto più ovviamente più difficile perché se poi hai anche il tono basso si innescono pensieri pessimistici visioni negative dell'esistenza interpretazione negativa di tutto di tutto sostanzialmente perché la depressione può essere riassunta con uno stato di interpretazione pessimistica di quello che ci accade di quello che ci succede di tutto quello in cui siamo immersi l'apatia è una componente perché anche nella depressione a volte ci si sente previ di energie demotivati però in quel caso probabilmente la demotivazione nasce anche dalla visione pessimistica per cui nulla senso anzi abbiamo una visione molto passiva della vita ecco l'apatia un altro elemento dell'apatia è che spesso le persone che sono apatiche sono anche persone che hanno una visione passiva dell'esistenza per cui la propria attivazione il proprio impegno non è in grado di cambiare il corso degli eventi e quindi nulla più ha senso quindi qualunque cosa io possa fare comunque la mia condizione non cambierà e quindi non faccio niente sostanzialmente questa è la visione passiva dell'esistenza ovvero un locus of control esterno come viene chiamato in termini più tecnico in psicologia e ovviamente la visione passiva dell'esistenza l'ho parlato già in altri video è uno degli elementi più nocivi in assoluto a livello psicologico perché ci può succedere di tutto ci può capitare la peggio disgrazia ma il fattore chiave che ci fa reagire alle nostre difficoltà è il fatto che noi percepiamo di avere controllo su quello che ci accade quindi se noi facciamo qualcosa riusciremo a produrre dei miglioramenti sulla nostra esistenza su tutto quello che vogliamo se noi abbiamo questa percezione questo atteggiamento questo mindset nei confronti della vita automaticamente avremo più motivazione perché perché vedremo le nostre azioni come importanti come non neutre per cui se le faccio non le faccio il risultato alla fine è lo stesso anzi vedremo le nostre azioni come profondamente plasmanti rispetto a quello che è il risultato finale a volte probabilmente c'è anche un eccesso di ottimismo di attività per cui si sfocia in una sensazione di ipercontrollo per cui vorremmo controllare tutto e abbiamo l'ambizione e la presunzione che noi possiamo controllare ogni cosa che ci capiti e possiamo essere sostanzialmente padroni di ogni variabile ovviamente no la vita è piena di variabili di cui non siamo nemmeno consci la vita non è mai totalmente incontrollabile perché ovviamente c'è una componente casuale di cui non siamo conoscenze di cui non esperiamo il diciamo l'avvenire ma ma allo stesso modo la vita non è completamente una barca in preda alla marea in preda alle onde la vita può essere presa in mano può essere controllata in parte alcune variabili possono essere controllate e questa visione dell'esistenza questo modo di approcciarsi alla vita questo atteggiamento di approccio alla vita è in grado di darci tantissima motivazione come fai a cambiare la visione della vita se sei brutto sfigato gay e ti discosti anni lucida i requisiti imposti per stare nella società sai che per la parte ci fa i feedback negativi fuori casa beh allora questa è quella che io considero una visione eccessivamente pessimistica della vita nel senso che ovviamente tutte queste cose che hai elencato sono fattori socialmente ostacolanti ma non per questo significa che sono fattori assolutamente bloccanti quindi probabilmente chi parte da una condizione di minoranza per cui che non so sei omosessuale brutto eccetera dovrai fare un extra sforzo per raggiungere degli obiettivi o comunque gli obiettivi che richiedono quelle caratteristiche perché poi magari che ne so sei brutto usiamo questa parola anche se poi spesso a me piace parlare di autostima fisica piuttosto che di bruttezza e bellezza oggettiva ma riconosco che ci siano dei canoni meno apprezzati socialmente se sei brutto probabilmente non riuscirai mai a raggiungere che ne so a fare il modello ma potrai sfruttare altre due caratteristiche di personalità che magari sono più utili in altri ambiti e magari cerca di valorizzare quelle ovviamente non siamo tutti uguali però dobbiamo cercare di valorizzare ovviamente le nostre le componenti più più forti Marco mi incuriosisce molto questo cambiamento radicale d'apatia d'apatia e iperattività perché non riesco a capire come sia possibile passare da un estremo all'altro allora io la mia motivazione è nata l'ho già raccontato in una live poi non dite che parlo sempre di me perché me lo chiedete voi allora la mia motivazione fortissima è nata dalla fine della mia crisi esistenziale cioè dal punto più nero della mia crisi esistenziale lì nella mia crisi esistenziale ero completamente apatico quasi ero assolutamente in preda ai miei istinti cioè non facciamo nulla che non era qualcosa che io volevo fare quindi se volevo stare tutto il giorno sdraiato sul letto stavo tutto il giorno sdraiato sul letto se volevo accendere un'anime accendevo un'anime eccetera quello che che mi ha portato a reagire è stata la paura cioè qualcosa dentro di me è scattato la paura del è brutto da dire forse non è nemmeno l'esempio più giusto da dare però è stato uno scatto di orgoglio è stato anche una una sensazione di non voler più demandare agli altri o alla mia ragionamenti logici alla mia iperrazionalità l'andamento della mia vita quindi ho sostanzialmente rifiutato quello che erano i miei pensieri le mie crisi esistenziali e ho deciso di reagire cercando di impiegare quelle che erano le mie qualità che in quel momento mi stavano autodistruggendo perché una cosa secondo me fondamentale dell'ikikomori è che l'ikikomori sono spesso ragazzi intelligenti svegli e questa incredibile lucidità mentale li fa vedere con molta più lucidità diciamo anche gli elementi crudi freddi asettici della vita io vedevo molto questa paura della morte questa fine vita anche tutto il male che c'era nel mondo come molti ikikomori il problema è questo è che l'ikikomori ha una grande potenziale psicologico di ragionamento logico intellettivo in generale che però non è in grado ancora per la sua giovane età di controllare cioè come se tu avessi un super potere che ti autodistrugge perché hai tutta questa capacità intellettiva che però non sei in grado di indirizzare correttamente quindi di incanalare in un percorso di crescita personale quindi di miglioramento di rafforzamento e quindi tutta questa energia intellettiva questa energia anche data dalla giovinezza che non sfoghi attraverso magari anche altri canali ti torce contro e ti autodistrugge è veramente proprio la metafora del supereroe anche se non è che siamo tutti supereroi o siete tutti supereroi gli ikikomori sono tutti supereroi o sono tutti superintelligenti però secondo me c'è questa componente non è un caso che tanti ragazzi isolati abbiano una plus dotazione o abbiano comunque un certificato di grande capacità intellettiva o c'è l'asperger che è definito una forma di autismo ad alto funzionamento perché l'intelligenza si scorrela spesso all'ansia perché l'intelligenza ti porta a vedere una serie di variabili che ti mettono paura perché tu riesci a vederle quindi magari uno meno intelligente meno lucido non le vede quelle variabili quindi è molto più disinibito proprio perché è molto più sciolto nelle sue azioni nel caso di una persona molto logica rimuginante e come dire portata alla visione anche pessimistica dell'esistenza proprio perché l'intelligenza si corrella spesso all'ansia questo tipo di impostazione mentale può diventare autodistruttiva io cosa ho fatto per concludere io ho mi son detto mi son detto Marco prova a incanalare tutta questa tua energia che metti nei videogiochi che metti nella rimuginazione dei pensieri che metti nella costruzione di film di cose introverse cioè tutta questa energia che tu butti dentro di te e che ti sta distruggendo perché non sei in grado di controllare prova a prenderla e applicala cioè trovale un'applicazione un'applicazione che possa essere gratificante che possa essere forte sul lungo periodo quindi non una gratificazione momentanea quindi non un edonismo momentaneo quindi non una gratificazione che sia bevi alcol o gioca a poker o gioca a video poker ma una gratificazione che sia sostenibile sul lungo periodo e che ti porti a esprimere e a dimostrare sia a te che agli altri perché poi ovviamente dovevo dimostrarlo anche a me che in realtà se tu ti applichi cioè se applichi queste tue competenze a qualcosa di sociale qualcosa che non è solo nella tua mente che non è solamente una tua una tua auto costruzione ma qualcosa che che è visibile anche dagli altri vediamo cosa sei in grado di fare cioè era anche una sfida cioè me lo sono dato anche come sfida personale io per fortuna forse la mia salvezza è stato che sono una persona incredibilmente competitiva e quindi sono riuscito attraverso questo pensiero a cavalcare l'onda della competizione sociale per dire guardate cioè il mio pensiero era agli altri ma agli altri non so chi a tutti a me stessa la società era guardate che se io gioco alle vostre regole cioè non mi autodistruggo con tutta questa energia intellettiva e nervosa io so ottenere qualcosa di importante so fare qualcosa di importante so fare qualcosa che mi virrebbe riconosciuto questa cosa questa motivazione l'ho usata anche per la laurea perché io sono sempre stato un ragazzo che per esempio alle medie e alle superiori non andava benissimo pensate che quando io ho finito le scuole medie gli insegnanti mi avevano consigliato di non fare il liceo infatti io feci regeneria perché mi reputavano a causa della mia probabilmente anche timidezza il fatto che subissi bullismo non ero in grado di integrarmi bene in classe e quindi questo danneggiava ovviamente anche i miei risultati scolastici mi consigliare di non fare il liceo perché era giudicato come troppo difficile per me e questa cosa a me ferì molto perché in realtà io non mi vedevo inferiore alle persone che facevano il liceo e quindi anche la laurea in più scusate io ho una madre che continuava a non darmi soddisfazione nel senso che ogni volta che prendevo un bel voto tornavo a casa dicevo mamma ho preso 8 e lei mi diceva ma perché non hai preso 9 ma perché non hai preso 10 pur mi diceva dai vediamo la prossima volta però l'altra volta hai preso 4 cioè non mi dava mai una soddisfazione e questa cosa mi bruciava mi bruciava dentro perché non ottenevo nessun tipo di riscontro dai miei risultati e quindi un'altra motivazione che mi ha portato per esempio a laurearmi e a farlo in 5 anni senza perdere anzi in 4 anni 8 mesi quindi in meno di 5 anni è stata quella di dire ok adesso vi dimostro che io non sono stupido che posso fare quello che mi premetto e questa mia come dire sensazione di essere sottovalutato dagli altri era probabilmente data dal mio carattere introverso che mi limitava nei rapporti con gli altri cioè non mi faceva parlare non mi faceva esprimere bene e bonfocchiavo diventavo rosso e questa mia inibizione sociale mi faceva passare anche per uno poco intelligente uno poco sveglio e assolutamente il fatto di riuscire a sbloccarmi anche da questo punto di vista mi ha dato la possibilità di di esprimere a pieno a pieno io non mi sento ancora di esprimere a pieno le mie potenzialità ma vorrei arrivare a una condizione di esistenza in cui mi sento espresso mi sento di aver applicato questa energia questa motivazione a qualcosa che mi dia gratificazione quindi diciamo che nella mia storia personale la motivazione è stata molto c'è sempre stata molta voglia di rivalsa molta voglia di dimostrare di 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 non essere considerato probabilmente da meno di non essere considerato un fallito è probabilmente una motivazione che non non è assolutamente l'unica possibile nel mio caso è stato questo probabilmente anche per una mia componente di competizione assolutamente allora 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 questa frase tanto qua il festival delle fasi un tanto al chilo vabbè ho capito vi saluto ciao ciao a me fanno ridere le persone che criticano così pensano di di essere pensano di essere taglienti con i loro con i loro commenti bah dimostrano solo grande frustrazione ma vabbè non ci interessa io tutto questo giudizio della società non lo vedo sinceramente e dipende quanto ti senti percepiti ti percepisci giudicato scusa se mi intrometto ci sono ambienti gruppi musicali che non vivono rigidamente delle regole che ti senti imposto scusate mi sto perdendo un po' perché parlando tanto leggo meno i vostri consigli ah ecco qua eritro che è andato via io sono apatico da ben 12 anni ciclo e sono stati i 12 anni migliori della mia esistenza pensa che bello se l'apatia ti porta a essere non essere in grado di reggere una conversazione per più di 5 minuti per poi uscire pensa che i risultati della vita hai ottenuto tante volte ho pensato che se fossi nato meno intelligente sarei stata più felice nella vita avrei notato meno difetti nella società e mi sarebbero portati meno segoni mentali beh certo l'intelligenza è correlata all'ansia ovviamente alla rimuginazione per quello che dicevo prima una persona intelligente è in grado di immaginare scenari apocalittici negativi pessimistici con maggiore facilità rispetto a una persona meno avvezza a questo tipo di pratiche quindi più una persona rimugina più rimugina in senso pessimistico e più come dire finirà per provare ansia inibizione perché immaginiamo che io sia una persona appunto in grado di fare molte riflessioni su quello che mi accade e su quello che mi sta attorno e voglio andare a parlare a una persona questa questo andare a parlare a una persona mi creerà ansia perché perché io riuscirò a immaginare tutta una serie di eventi negativi questa persona mi sfotte mi deride mi dice di no non mi considera tutta una serie di sventure che magari se fossi molto più semplice nel mio approccio molto più istintivo meno dominato da sovrastrutture logiche morali eccetera lo farei andrei a parlarci e non sarai nemmeno in grado di valutare le conseguenze ovviamente in alcuni casi l'ansia è protettiva perché per esempio se l'ansia mi porta a valutare le conseguenze della droga per dire ovviamente questo mi terrà lontano dalla droga mi farà vedere quali sono gli aspetti negativi del drogasse quindi io mi terrò lontano da questo potenziale pericolo però dall'altro rischia di inibirmi anche nelle situazioni che non sono effettivamente un pericolo come per esempio andare a parlare con una persona o cercare di andare a un concerto o in una situazione sociale quindi capite che è inevitabile che l'intelligenza intesa come io quando uso la parola intelligenza la intendo in questo modo capacità di elaborare informazioni dell'ambiente grande capacità di elaborare informazioni dall'ambiente e produrre con queste informazioni dei ragionamenti complessi quindi intelligenza per me è banalmente una capacità procedurale della nostra mente come può essere paragonata alla RAM di un computer capacità di elaborare molte informazioni e usare queste informazioni in modo complesso restituire degli output complessi quindi elaborare molti input ambientali e elaborare degli output complessi che possono essere ragionamenti possono essere opere d'arte possono essere quadri possono essere libri possono essere canzoni possono essere rime possono essere qualunque cosa l'intelligenza per me non è limitata alla cultura per esempio per me alcune delle persone più intelligenti che io reputo più intelligenti d'Italia sono dei rapper per me un rapper come Marrakesh è una persona di un'intelligenza sopraffina pur non rispecchiando lo stereotipo del professore universitario perché a me non interessa solo quel tipo di intelligenza non mi interessa tanto l'immagine ci sono persone incredibilmente intelligenti che non per questo hanno una professione o un immaginario o un outfit che li rende delle persone tecnicamente intelligenti e viceversa ci sono delle persone che magari si pavoneggiano a persone intelligenti ma non sono assolutamente intelligenti ecco Marra del Cerbero Podcast lo reputo una persona molto in gamba nonostante lui giochi molto su questo contrasto con la sua immagine invece molto più diciamo aghesta come dici tu questo per me questo per me è capire cos'è l'intelligenza il costrutto dell'intelligenza si lega anche appunto al tema dell'ansia e della motivazione sto cercando di riprendere in corner il tema ma non sono capace non sono stato in grado allora non si tratta semplicemente di insicurezza eh sì ma l'insicurezza da cose dovute cioè perché io sono insicuro e lui no perché è una persona molto più spontanea disinibita e un'altra persona molto più inibita introversa secondo me alla base di questa differenza caratteriale c'è una capacità diversa di immaginare scenari possibili e tendenzialmente negativi Marco nel suo esempio parla ah scusa Maria grazie per aiutarmi con la moderazione Maria è una delle persone che si è offerta di aiutarmi con la moderazione ti aggiungerò assolutamente dopo questa chat alla moderazione grazie apprezzo apprezzo l'aiuto che molti di voi mi offrono tramite direct su Instagram che vogliono magari contribuire attivamente o più attivamente ai Kikomori Italia però in questo momento la cosa più grande che potete fare che posso chiedervi non essendoci una struttura particolarmente elaborata nell'associazione è supportatemi attraverso il passaparola la condivisione guardando banalmente i miei contenuti se vi interessano eccetera eccetera io sono il Kikomori sto cercando di uscire ora sto facendo palestra sperando di trovare un lavoro ma è veramente dura soprattutto quando sei molto ansioso beh è dura è dura riuscire a lottare contro i propri istinti e questo è un altro tema secondo me che si lega alla motivazione ovvero non solo il Kikomori ha una carenza di motivazione ma ha una motivazione contraria a ciò che lo farebbe uscire dalla propria condizione cosa significa? che la sua motivazione cioè le sue motivazioni intrinseche sono in opposizione a ciò che andrebbe fatto per riuscire a uscire dalla propria condizione e come dire per rispondere alla domanda di questo video perché poi sembra che parliamo a vuoto secondo me le chiavi per generarsi motivazione in una condizione di non motivazione sono quelle di lavorare sulla propria visione della vita quindi una visione più attiva dell'esistenza e riuscire a variare ambiente perché è una cosa che secondo me la gente sottovaluta è che i nostri pensieri e le nostre azioni di conseguenza sono determinate per il 50% da noi cioè dal nostro corpo dalla nostra mente dai nostri processi biochimici e neurali e per l'altro 50% dall'ambiente in cui ci troviamo perché perché se noi invece di essere nella nostra stanza buia davanti a un computer stiamo vediamo teletrasportati che ne so in Australia non avremo gli stessi identici pensieri avremo saremo influenzati dall'ambiente da altri pensieri non solo ci verremo chiamati ad attivare istinti diversi perché magari dovremo cercare di sopravvivere o che ne so banalmente trovare un lavoro eccetera e quello ovviamente l'ambiente in cui ci troviamo cambierà cambierà il nostro modo di interpretare l'esistenza e quindi anche i nostri pensieri e quindi anche le nostre azioni quindi è fondamentale capire capire per un Niki Komori e in generale per le persone apatiche che bisogna trovare prima di tutto prima di fare delle cose bisogna trovare la motivazione per provare a cambiare ambiente non necessariamente in modo drastico ma anche in modo graduale cioè per esempio un Niki Komori mi ricordo un ragazzo isolato mi diceva che in un'intervista che lui si è sforzato tantissimo per passare dalla camera al salotto e questo ha fatto uno scatto mentale enorme perché solo il passare non appunto dalla camera all'Australia alla foresta ma passare dalla camera al salotto gli ha provocato tutta una serie di pensieri differenti e quindi anche motivazioni differenti se ovviamente portiamo all'estremo questo tipo di ragionamento è inevitabile che capiremo quanto l'ambiente in cui ci troviamo influenza i nostri pensieri quindi un mio consiglio è non pensate che voi siete così e quindi sarete così perché voi siete così anche perché siete lì perché siete in quel contesto se voi così come siete foste in un altro contesto sareste diversi questa cosa vale per la nascita ovviamente quante volte noi nella nostra vita ci siamo detti beh chissà se fossi nato nelle favelas del Brasile oggi come sarei o chissà se fossi nato ricco oggi come sarei ovviamente sarei una persona diversa anche con la stessa base genetica con la stessa identica base genetica ma lo stesso discorso lo stesso identico discorso vale anche in corso d'opera nella vita se io in un momento della mia vita vorrei che il mio pensiero il mio mindset il mio atteggiamento nei confronti della vita cambi la prima cosa che dovrei provare a fare è cambiare ambiente è cercare di uscire dalla stanza ed è per questo che secondo me è una delle più grandi e importanti soluzioni per gli chico mori adulti cioè per coloro che hanno già superato il periodo scolastico sono entrati nel mondo degli adulti quindi nel mondo potenzialmente del lavoro ma un lavoro che non sono in grado né di trovare né di mantenere ecco per me la più grande soluzione è la comunità ma per un semplice motivo non perché nella comunità si facciano delle pozioni per cui ci siano delle formule magiche o ci siano dei santoni ma perché la comunità ti permette di evacuare la tua stanza a prigione ti permette di scappare da quell'ambiente che è responsabile del 50% della tua condizione l'altro 50% ovviamente è determinato da noi stessi dalla nostra storia dal nostro passato dalla nostra genetica dalla nostra ovviamente dal nostro trascorso ma un buon 50% non buon il 50% è determinato dall'ambiente in cui noi ci troviamo questo non significa che scappando risolviamo tutti i nostri problemi e questo argomento lo tratterò sicuramente in un'altra live forse già nella prossima e la domanda che secondo me è utile discutere insieme è se io prendo e parto allo sbaraglio è una buona soluzione se sono un ichikomorio se sono una persona profondamente incasinata con un sacco di problemi profondamente come dire con tanti limiti è una soluzione questa è una cosa che tutti noi almeno una volta nella vita ce lo siamo chiesti quando ci troviamo in una situazione di particolare difficoltà ci sembra di non vedere via di uscita la nostra condizione ci viene facile pensare beh a questo punto parto vado vado via qualcosa accadrà qualcosa si sbloccherà però non è sempre così facile ne vorrei parlare bene in una live perché in questo caso penso che non ci sia abbastanza tempo anche perché è già un'oretta che sto parlando recupero un po' dei vostri commenti tante volte ho pensato che se fossi nato questo l'ho già letto a me ho consigliato di fare il liceo ma sono andato al tecnico questi insegnanti dovrebbero evitare di consigliare anche i genitori dovrebbero evitare di consigliare lasciamo fare ai ragazzi quello che si sentono di fare però mi piace essere intelligente ragionare molto su cose profonde quindi niente mi becco certo tutto quello male della cosa beh è inevitabile che ci piace spesso essere quello che siamo perché ci siamo stati tutta la vita quindi a volte l'idea di cambiare ci sembra talmente assurda che non possiamo nemmeno prenderla in considerazione veramente allora autorealizzazione in senso personale voglio dimettersi alla prova crescere e migliorare esatto scusate sto leggendo un po' di commenti Maria ormai risponde quasi tutti i miei commenti quindi sono già a posto beh il tema della palestra per esempio è un tema interessante cioè quello di vedere il proprio fisico crescere quindi anche aumentare la propria autostima fisica non lo vedo necessariamente come una cosa negativa anzi non ho molta conoscenza del fenomeno di Kikomori ma sentendo questi discorsi mi chiedo se di fronte ai casi più gravi non va indagata la presenza di un disturbo di personalità di tipo schizzoide va indagato sì sicuro nel mio sondaggio che ho effettuato all'interno dell'associazione almeno un 2% dei casi di isolamento sociale quindi di presunto i Kikomori avevano evidenti sintomi schizofrenici per esempio sentivano voci avevano una percezione della realtà particolarmente alterata sì quindi non bisogna autodiagnosticarsi di Kikomori anche perché ripeto per me di Kikomori non è una diagnosi è il nome di un fenomeno sociale che ha determinate caratteristiche ma non è necessariamente una persona di Kikomori invece è sempre utile comunque fare una diagnosi differenziale per capire se alla base dell'isolamento c'è una problematica di tipo psichiatrico e in questo caso il riferimento è sempre lo psichiatra per me intendi anche le persone per ambiente sì 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 per ambiente l'ho detto anche in un video intendo tutto ciò che è esterno a noi cioè tutto ciò che è esterno alla nostra mente e a quello che noi percepiamo come nostro per esempio il corpo lo percepiamo come nostro cioè questa mano la percepisco come parte di me anche se in realtà l'unica cosa che è in grado di concepire che questa mano è parte di me è la mia mente in realtà questa mano potrebbe essere benissimo parte del mondo esterno e l'unica cosa che possediamo veramente sono quei processi biochimici che ci fanno comprendere che siamo esseri umani probabilmente alcuni mi consideri in isolato ma non mi crea disagio o ansia non può essere una fase positiva della crescita ma tutto dipende da come la vivi sicuramente l'ikikomori non è per forza una fase negativa se vissuta in maniera propositiva e in maniera di miglioramento può essere anche una fase importante per trovare un proprio equilibrio il rischio è quello di trovare un equilibrio non all'interno della società ma all'interno della propria camera e questo può essere un problema soprattutto perché questo equilibrio dipende dal lavoro di qualcun altro perché se io non avrei ripeto lo dico non avrei nulla in contrario all'isolamento di un'ikikomori non che io abbia qualcosa in contrario ma non avrei nemmeno tempo da perdere su un'ikikomori se fosse una scelta di vita assolutamente autonoma ma siccome l'ikikomori non è una scelta di vita a. neutra perché quasi sempre provoca disagio e sofferenza e b. pesa sulle spalle altrui in particolare sui genitori che io vedo tutti i giorni e so quanto soffrano ma pesa non a livello psicologico ma pesa proprio anche a livello economico cioè se una persona potenzialmente fosse in grado di mantenersi secondo me è molto raro questa cosa e l'ho detto anche in un'altra live se però una persona potenzialmente sia in grado di mantenersi senza mai uscire di casa e non gravare su nessuno io chi sono io per poter dire a quella persona anche una singola parola però non è così di solito la condizione di che comore è permessa dal lavoro di altri anche migliorare l'ambiente in cui viviamo migliora molto l'umore pensieri noi ovviamente le persone ci influenzano anzi le persone sono forse uno degli aspetti più influenzanti della nostra psiche perché spesso si dice non frequentare cattive compagnie non frequentare perché ovviamente stare con gli altri si prende molto dell'altro si imita molto l'altro soprattutto in una fase adolescenziale quando la propria personalità non è completamente strutturata quindi anche decidere con quale persone si vuole passare il tempo contribuisce a determinare un certa visione dell'esistenza e una certa visione anche delle nostre motivazioni delle nostre azioni quindi quello che noi possiamo fare è provare a cambiare questo ambiente forse non abbiamo il controllo totale anzi sicuramente non abbiamo il controllo totale dei pensieri delle azioni che l'ambiente elicita in noi ma ma abbiamo più controllo sulla possibilità di cercare di variare l'ambiente in cui stiamo anche perché variare l'ambiente in cui stiamo significa uscire dalla nostra comfort zone perché quando siamo molto in un ambiente per esempio la casa tendiamo a plasmarlo in modo che sia il più confortembole possibile assolutamente quando noi cambiamo quando cambiamo casa ci sentiamo più spaisati perché variamo comfort zone quindi cambiamo cioè usciamo dalla nostra comfort zone quindi ci troviamo per esempio dopo un trasloco a dover riplasmare tutte quelle piccole cose che determinano la nostra sensazione di comfort stessa cosa con le persone per esempio se cambio luogo di lavoro se cambio lavoro spesso mi metterò costantemente in una situazione di uscire dalla mia zona di comfort ma come maleficio diciamo come contro avrò che sarò sotto stress spesso perché stare sempre nello stesso luogo di lavoro è più facile si stabilizzano le cose la mia routine le mie azioni ma cambiare lavoro mi porta a stress perché devo abituarmi a un nuovo ambiente a nuove persone la cosa positiva diciamo cosa ricevo in cambio da questo stress oltre eventualmente ai soldi che decido di prendere per cambiare lavoro o eccetera quello che ricevo in cambio è capacità adattiva capacità di adattare l'ambiente a me e non essere io plasmato dall'ambiente quindi io cambiando spesso la mia zona di comfort mi fortifico perché imparo a mettere in atto tutta una serie di comportamenti e azioni che mi renderanno sempre più forte e sempre più in grado di adattarmi a molteplici ambienti per questo che per esempio un viaggiatore esperto non ha problemi a viaggiare perché è abituato ad adattarsi a diverse condizioni stessa identica cosa vale per una persona che non viaggia ma che magari cambia diversi luoghi che si trova costantemente sollecitato costantemente in dovere di attivarsi per riuscire a trovare una propria stabilità un proprio equilibrio ovviamente bisogna trovare anche un punto di equilibrio perché da una parte continuare a cambiare ambiente provoca tantissimo stress e quindi ci fa soffrire non è una cosa positiva lo stress è una cosa che ci danneggia ma dall'altro lato è una cosa che ci dà dei benefici dei benefici indietro allora gli ultimi 5 minuti poi chiudiamo perché sono stanco e sto cominciando a sudare mi sono dimenticato di accendere il condizionatore prima di far partire la live io ho notato troppo aggressività nelle persone negli ultimi tempi questo mi fa desiderare di chiudermi anche se come persone sono molto succevole e l'aggressività è data dalla competizione anche questa ovviamente le persone quando competono sono sempre più aggressive perché la competizione presuppone un ottenimento di una risorsa limitata a discapito degli altri quindi se intendiamo il capitalismo come un gioco somma zero rischiamo che qualcuno perda sempre se qualcuno vince qualcuno perda sempre finché consideriamo la società come un gioco somma zero somma zero vuol dire che tutto quello che c'è dentro non aumenta ma viene spartito tra le varie parti e se qualcuno ottiene di più qualcuno ottiene di meno questo genere ovviamente aggressività competizione voglia di prevalere ma che cosa ne pensi del fatto che alla fine non siamo noi aver scelto di nascere vivere ma sono stati i nostri genitori di conseguenza è stata una loro scelta mantenerci è un loro dovere beh è un po' facile come visione non è che i tuoi genitori hanno scelto di far nascere te i tuoi genitori hanno scelto di mettere in mondo una persona poi ovviamente se ne prendono le responsabilità infatti i genitori secondo me sono co causa di questo problema e non a caso come associazione aiutiamo soprattutto i genitori e partiamo dai genitori e io credo che i genitori abbiano un ruolo fondamentale sia positivo che negativo però viverla tipo vabbè mi hai messo il mondo quindi adesso mantieni quindi soddisfa tutti i miei capricci beh è un po' semplicistica come visione per carità potrebbe anche funzionare sul piano logico però mi sembra una protezione mentale che è di comodo Marco non accende il condizionatore siamo a settembre apri la finestra non consumare energia a caso Greta Tamber no scherzo beh il condizionatore in realtà l'ho accendo pochissimo l'ho accendo 10 minuti faccio un po' di deumidificatore neanche il condizionatore e basta allora allora cosa leggo gli ultimi commenti poi vi saluto perché vabbè a parte il condizionatore a parte il caldo siamo a settembre ma fa caldissimo oggi qua a Milano sono abbastanza stanco è ammerevole quello che stai facendo soprattutto perché la tua giovane età sono finto giovane un po' ragazzi ho 29 anni ho 29 anni non sono più così giovane sembro un po' giovane perché mi cresce poco la barba e perché come direbbero gli incel ho la baby face non so se ho la baby face però so che gli incel utilizzano spesso questa espressione mi sto attirando l'ira di tutti gli incel d'Italia non so perché in realtà perché anzi a me sembra quando faccio un video sugli incel di essere pro diciamo non pro incel però di essere comunque di fare qualcosa di utile per gli incel perché ne parlo dico che comunque il problema c'è dico che le persone andrebbero comunque supportate in questo problema perché esiste però no cioè non basta o gli dai ragione o anche se parli di incel perché vuoi provare con la tua minima visibilità per carità sensibilizzare vuoi provare sensibilizzare sul fenomeno no comunque devi essere assolutamente dalla loro parte altrimenti sei uno stronzo non ho capito perché non si può essere un incel moderato io in questi 17 anni praticamente non ho avuto amici e questo è perché le persone che ho conosciuto si sono rivelate false e per questo sono diventato un po' apatico rispetto ai sentimenti degli altri allora sei ancora giovane e ovviamente le delusioni in amicizia e nelle relazioni sono alla base di molti problemi e anche delle Kikomori tant'è che una delle cose più ricorrenti che avrete notato nelle storie di Kikomori cioè dei ragazzi che sono venuti qua a raccontarsi è una delusione in amicizia e anche la storia di Mirko che posterò tra domani e dopo domani ha questo tipo di caratteristica ovvero che aveva un amico che però a un certo punto l'ha lasciato è vero cioè nel senso non è facile accettare questa cosa questa cosa che le persone non più sono deboli più a volte se ne approfittano non sempre però quando si è giovani forse si ha anche meno sensibilità e empatia da questo punto di vista però non questo non deve darci la possibilità e consentirci di sviluppare una visione completamente negativa perché dobbiamo essere consapevoli che quando sviluppiamo una visione troppo negativa probabilmente è una visione estremizzata e quindi non equilibrata condizionata fortemente dalla nostra esperienza quindi dobbiamo avere la lucidità di capire che la realtà non può essere così estrema perché allora non si spiegherebbe perché ci sono persone che si trovano benissimo e persone che si trovano male e non è solamente frutto ripeto delle esperienze che viviamo Marco ho iniziato oggi a leggere il mito di Sisypho grazie ai tu consigli grande grande il mito di Sisypho è un libro davvero davvero incredibile incredibile per me è stato un libro incredibile quindi fammi sapere poi cosa ne pensi magari facciamo una live un giorno per parlarne insieme se lo leggete tutti ne discutiamo ne discutiamo insieme perché mi fa molto piacere lo credo lo credo lo ritengo davvero un libro importante Marco non sono depresso né niente secondo te è normale il mio pensiero di isolarmi dalle persone allora la depressione non è una cosa facile da individuare poi la depressione può avere vari stadi ci può essere una depressione latente ci può essere un inizio di depressione che incomincia magari da un forte pessimismo quindi non è che devi preoccuparti devi semplicemente cercare di evitare scelte estreme ma mantenere più lucidità possibile per avere sempre una via d'uscita qualora ti accorgessi che la tua decisione non è quella che ti aspettavi perché poi noi esseri umani agiamo per prove d'errori impariamo per prove d'errori forse i due grandi sistemi di apprendimento dell'essere umano sono l'imitazione cioè noi apprendiamo per imitazione guardando gli altri osservando gli altri e per prove d'errori cioè facciamo cose sbagliamo correggiamo sbagliamo ricorreggiamo finché non riusciamo a trovare un equilibrio quindi è importante sempre riuscire a mantenere questi due questi due stati no non so più cosa sto dicendo vabbè basta sono stanco ciao Marco ci saranno altri video testimonianze sugli kikomori le interviste che hai fatto ai ragazzi finora sono state interessantissime Mila sì l'ho detto all'inizio del video tra oggi e domani pubblicherò un'altra testimonianza di un ragazzo giovanissimo di 19 anni quindi il più giovane che è venuto finora e quindi appena finisco la live mi metto a montarlo prima bevo un litro d'acqua e poi mi metto a montarlo oggi sto balbettando più del solito devo fare dei corsi di speaking basta basta dai allora siamo arrivati alle 23.13 ci siete ancora in tanti vedo che nonostante non sia domenica mi dispiace per aver fatto saltare la live di domenica ma diciamo che la domenica ho spesso degli eventi sociali chiamiamoli così delle uscite sociali quindi non sempre riesco a fare la live proverò magari qualche volta a farla in notturna notturna tra virgolette ovvero partendo dalle 23 quindi magari invece di fare dalle 22 alle 23 proverò qualche volta a farla dalle 23 a mezzanotte e vedrò se c'è più o meno gente rispetto al solito ma secondo me comunque siete persone che non penso andrete a dormire tra 20 minuti quindi sono abbastanza positivo e mi spiace per le domande che non ho letto non me ne vogliate ma nonostante siete ancora un numero assolutamente gestibile cominciate a essere un buon numero quindi sono contento sono contento perché quando raggiungeremo i mille i mille spettatori in una live passeremo a twitch e lì incomincerò a fare i big money no non è vero non farò mai big money ma non è un problema grazie a voi e insomma spero anche in questa live di non essermi di essermi spiegato perché a volte parlare a flusso continuo non è facile grazie a tutti per il contributo e ci vediamo settimana prossima vediamo se riuscirò a farla di domenica se no ancora di lunedì alla prossima